Stai, tagliamo la torta, attenzione, aspetta, per due po' di pazienza, minuti di sacrificio, così. Allora noi tagliamo la torta insieme. E' il primo e il ventisestesimo festival del Perugino! Grazie, grazie, grazie. La degustazione, la degustazione afferrà in quello stand, d'accordo? C'è l'altra volta. Sì! Uno, tre, via! Lunga vita al peperocino, lunga vita ai peperocinizzati! Eccolo qua! Auguri agli sposi! E grazie di questo bello pidone! Attenzione! Fermi, proprio come il caso, si spostano avanti! Vai, eh, mamma! Un pochino coccino per le foto! E' avvicinato, vieni qua! E' viva gli sposi! E' viva il peperocino! E' viva la carriera! Vieno, vieno! Facciamo di nuovo, evviva gli sposi per una foto! Uno, due, tre! E' viva gli sposi! Allora, adesso taglieremo la torta e la serviremo a tutti in quello stand lì alla vostra destra! Grazie! Questo è il mio legame personale, un bel peperocino che è stato fatto apposta dalla pasticceria Biancaneve per gli sposi! Andiamo, andiamo, andiamo! Allora, attenzione! Attenzione, mia moglie! Mia moglie vi dimostra come è qui! Allora, il primo pezzettino va alla sposa e poi chiederei alla sposa di firmare il nostro libro, il librone piccante. Abbiamo il nostro libro piccante, abbiamo il nostro libro piccante, con una penna, sì sì è una penna, eccola qua! Allora, allora, questa pagina è tutta per te! Tutta la pagina è per te! Scrivici qua! Allora, st Arrivederci qui è un mito! L'ho świata è bello! Ci sono Inferrisk qui è un mito! Allora, non è un bufino per più in Ung poter per dal Nord 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 Nordlich! Grazie